Sarebbe bello che si facesse qualcosa che lascia un segno, che ci faccia capire che questa morte non deve passare così inosservata. Penso che forse cambiare quella panchina, colorarla diversamente, forse scrivere anche il nome di questo ragazzo. Dipingere di un altro colore la panchina dei giardini del Porcinai, sulla quale la scorsa settimana era stato ritrovato senza vita un giovane di 26 anni, senza fissa dimora, stroncato da un ictus. Su quella panchina amici e conoscenti avevano lasciato fiori e una foto del ragazzo. Adesso la Caritas lancia anche un'altra idea, lasciare su quella panchina contatti ed indirizzi dei servizi del territorio. Sì, magari anche se si diffondesse che possiamo dare un pasto caldo, una coperta, qualche cosa tramite la Caritas a queste persone, per me sarebbe una bella cosa. Queste persone esistono, queste persone ci sono e non si può vivere e costruire una società equilibrata, normale, con un futuro se non ci poniamo veramente problemi, perché il problema va affrontato, il problema va visto, va analizzato, va capito e deve essere anche possibilmente risolto nel migliore dei modi. Ad Arezzo il dormitorio di Via Fonte Veneziana, gestito da Caritas, quest'anno resterà aperto un mese in più. Chiuderà maggio grazie ad aiuti straordinari, ma c'è comunque bisogno di più mani tese. Succede qualcosa, lì per lì ci muoviamo con qualche cosa e poi dopo passano gli anni e le vicende si ripetono. Purtroppo io devo anche dire che anche col dormitorio, forché qualche persona che ha dato, che personalmente si è privata di, però mi sento abbastanza solo in questa realtà. Il dormitorio avrebbe bisogno di volontari per andare avanti? Volontari, spazi, aiuti e ci fosse anche più spazi sarebbe ancora meglio per noi. Ecco, devo dire che, lo ribadisco, questo ragazzo non si è presentato.